Buongiorno E dalla voce del presidente De Laurentiis arrivano rassicurazioni invece su Iguain Non c'è nessuna possibilità che vada via Gonzalo Iguain è e sarà un giocatore del Napoli Intanto abbiamo ascoltato un altro componente della rosa di Mister Sarri, Val di Fiori Per me è una grande occasione dopo tanti anni di gavetta Ho passato dalla C, dalla B e arrivato in A con l'Empoli E poi adesso questa grande occasione qui a Napoli Ringrazio appunto il presidente Che so che mi seguiva anche già prima che arrivasse Sarri E quindi per me questo è un motivo d'orgoglio E ringrazio che abbia deciso di puntare su di me Poi il fatto che ci sia Sarri Magari questo vuol dire sapere già quello che chiede l'allenatore Però devo dimostrare in allenamento per conquistarmi il posto Perché Sarri non regala nulla a nessuno Quindi sono bello carico, sono bello voglioso E non vedo l'ora appunto di indossare questa maglia davanti ai tifosi Dice le cose che pensa, cerca di far capire ai ragazzi Quello che appunto chiede lui in campo E penso che sta iniziando a trasmettere appunto le sue idee di gioco Che quello penso sia l'aspetto fondamentale Poi il gruppo lo sta seguendo E quindi per lui questo è importante E gli dà carica perché quando vede che la squadra lo segue È sicuramente un motivo di fiducia È un motivo per continuare su questa strada Cercando sempre appunto di migliorarsi giorno dopo giorno Cercando sempre appunto di migliorarsi giorno dopo giorno